Ciao a tutti da altro, grandissima sorpresa, eccoci qui al Savoy, al Fanta Fessima con Pierfrancesco Campanella Eccoci, presenti, buonasera Eccoci qui, allora come sta andando? Che emozioni hai? Beh, del Fanta Fessima che sono venuto questa sera per vedere i film di Stivaletti Grande presto, Stivaletti Hanno fatto vedere dei promo, è un film bellissimo, ispirato alla storia del Canaro che tutti conoscono, fatto il cronaca nera, avvenuto a Roma un po' di anni fa fatto che ha scoperto l'opinione pubblica Il film mi sembra molto bello, ben girato, una bellissima fotografia, bravi gli attori devo dire, ha fatto un'ottima impressione, sicuramente andrò a vederlo appena uscirà sui schemi Perfetto, e noi lo consigliamo già a tutti così, a occhi chiusi proprio Poi Sergio è un mago degli effetti speciali, lo sappiamo tutti, ha lavorato con i più grandi registi del mondo e adesso anche da quando sei regista, in prima persona, è all'altezza della tua fama che ha sempre avuto nel cinema, da tanti tanti anni a questa parte Ecco, se lo merita pienamente Assolutamente sì Ecco, se lo merita anche tu, vogliamo dare un saluto speciale a chi lo vuoi fare? Un saluto speciale lo voglio fare a tutti quelli che hanno partecipato questa settimana qui al Fanta Festival e in particolare all'amico Francesco Lomuscio che è l'ufficio stampa di questa manifestazione Che noi salutiamo Che è un grandissimo giornalista, bravissimo Lo vediamo anche di Saga Giuno, l'ufficio stampa Esatto, e si è impegnato moltissimo e in parte dei sottotitoli si sono viste una manifestazione lucidissima Ecco, e salutiamo tutti i due fan che ti seguono da sempre Beh, insomma, fan mi sembra un po' esagerato Vabbè, anche io nel mio piccolo, insomma, qualcuno che mi segue ce l'ho Ce n'hai, te l'hai, e te lo vedi anche io No, vabbè Allora, lui vi salutiamo A questo punto posso fargli anche un po' di autopromozione Certo, certamente Allora, dal 30, giovedì 30 novembre Esce delle sale il mio docufilm su Marco Ferreri Intitolato I Love Marco Ferreri Che è abbinato alla proiezione di un cortometraggio sempre mio Intitolato L'amante per festa Quindi paghi uno e prendi due Perfetto Dal 30 novembre al cinema Ecco, non manchiate Io ti ringrazio e un saluto a tutti quanti Ciao Ciao Ciao